Il Pucetta ottiene la seconda vittoria consecutiva. Dopo il piano della lente, i gialloblu sfodrono una grossa prestazione contro il fanalino di coda del torneo, che è riuscita ad impegnare una sola volta a Colella, parliamo del Pizzoli. Importante come dato per i gialloblu è il secondo clean sheet consecutivo per la porta, segno questo che si sta trovando una certa solidità difensiva. Assenze pesanti nel Pucetta, che deve fare a meno per squalifiche di Zazzara, Paris, Di Virgilio e Tavani, oltre al lungodeggente Paolini. Le due novità nell'undici iniziali sono Mattei schierato nell'insolito ruolo di esterno di centrocampo e Pascucci titolare al posto di Di Virgilio. Il Pucetta parte fortissimo e al quarto sblocca subito il risultato con una perla di Mercogliano, che direttamente da calcio d'angolo batte Muscato, firmando così il suo quarto centro stagionale, dopo le reti messe a segno contro Torno in parte, Montorio e Amiternina. Mercogliano due minuti dopo avrebbe la possibilità di chiudere il match, ma davanti al portiere da solo non trova la porta. All'ottavo grandissima cavalcata di 60 metri di Di Silvio sulla sinistra, che mette in mezzo un bel pallone per Pascucci, che va al tiro, ma Muscato è bravo a rispingere. Sulla ribattuta Mercogliano non trova poi lo spiraglio per battere a rete. Al sedicesimo bella azione orchestrata da Liberati e Pascucci. La palla arriva a Di Silvio, che con un ottimo spunto si crea lo spazio per la conclusione, ma il suo sinistro è sciallato. Il Pizzoli si fa vedere al ventunesimo con Cammarota, ma Colella appara facendo venire qualche brivido ai gialloblu. Al ventiquattesimo la parata più difficile di Colella. Cross su punizione di Cammarota. La palla viene toccata di esterno da D'Agostino, ma il portierone gialloblu è reattivo nel deviare il pallone. Al ventinovesimo Pucetta ancora pericoloso da calcio d'angolo. Muscato non è perfetto nell'uscita, ma Di Stefano non ne approfitta. Al quarantunesimo Pascucci solo davanti a Muscato non tira. Cerca di aggirare il portiere, ma si allunga il pallone e l'occasione sfuma. Nella ripresa ci prova subito il Pucetta, con Mercogliano direttamente su punizione al terzo, ma Muscato respinge con i pugni. Al diciannovesimo occasione per il Pizzoli. D'Agostino, da posizione defilata però, trova soltanto l'esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte, grandissimo scatto di Barrow, che elude la marcatura e valtiro, ma Muscato è attento e parla in due tempi. Al ventiduesimo numero di Barrow che finge di cercare lo spazio per il passaggio e poi si fila in area, inducendo Rugani al fallo da rigore. Penalty indiscutibile. Sul dischetto si presenta Idrofano, che al ventitresimo fissa il risultato sul 2-0 e si porta al secondo posto della classifica dei bomber giallo-blu, con cinque reti messi a segno, la seconda consecutiva dopo il 2-0 momentaneo segnato al piano della lente. Piri si vede allo scadere, prima all'ottantacinquesimo da ottima posizione e spreca così il possibile 2-1, e poi due minuti dopo non trova né precisione né potenza e la palla termina sul fondo debolmente. L'ultima emozione la regala Liberati, che allo scadere, con un destro alla distanza, scheggia la traversa. Grandissima prestazione dunque per il Pucetta, che con questa vittoria sale a 29 punti. Parola adesso a Mister Giannini per l'analisi della gara. Mister, 2-0 sul Pizzoli, una grandissima prestazione, un primo tempo fantastico che poteva chiudersi anche con un punteggio più largo. Vittoria ovviamente strameritata, grandissima prestazione dei giovani. Lei trova un neo alla prestazione di oggi? No, hai detto bene te. Il neo è che la partita doveva essere chiusa al primo tempo. Abbiamo avuto due, tre, quattro palle goal nitide, quindi è stato questo il neo di questa partita. Dovevamo chiuderla prima, poi comunque abbiamo fatto una grande prestazione anche al secondo tempo. Però sono partite che se non le chiudi subito poi magari puoi rischiare su qualche mischia, anche perché il campo era pesante e magari poteva succedere di tutto. Dovevamo chiuderla prima, comunque è bene così. Tanti complimenti ai ragazzi, come hai detto te, ma tutta la squadra, tutto il gruppo perché l'ha bruciata bene. Sapevamo l'importanza di questa gara che poteva essere anche sulla carta abbordabile, invece queste sono le partite più difficili da affrontare e l'abbiamo approcciata molto bene. Sono contento per questo. Immagino che siamo contenti per l'approccio anche perché sono due domeniche consecutive che l'approccio non viene sbagliato, cioè in cui la squadra entra bene concentrata in campo e fa sul risultato. Eh sì, era questa la ricerca nostra. Ultimamente avevamo detto che eravamo altallenanti e dovevamo ricercare proprio questa voglia anche di non prendere gol, di stare sul pezzo per tutti i 90 minuti. Sono contento anche per questo e l'abbiamo per fare gol. Dobbiamo stare attenti, concentrati e non prendere gol. Importantissima è stata la qualità della prestazione dei fuori vuota. Chiamati a sostituire gente come Di Virgilio, penso per esempio a Pascucci. Quasi non si è sentita la mancanza di uno come Alberto, quindi si può dire che la prestazione forse è il migliore in campo Pascucci, senza nulla togliere agli altri. Sì, sì, è una spanna sopra agli altri, sì è vero, perché comunque considerando anche che non giocava da tanto e considerando anche l'età, no? In 2002 comunque alle prime uscite per questo campionato. Lui titolare mi sembra aveva giocato all'andata con il Pizzoli, quindi è passato un girone, quindi non era facile per lui anche su questo terreno. Invece ha fatto benissimo, sono contento, insomma, ma anche De Lucia, bene, ma tutti quanti. Mattei che comunque ha fatto un ruolo che non è il suo, si è sacrificato tanto e per questo, insomma, sono felice. Adesso ci sarà la pausa natalizia. Qual è la tabella di marcia del Pucetta? Eh, prevede che ci rivediamo il 27, sereno Natale, passiamo e poi ci riposiamo pure, perché comunque stiamo correndo da tanto e oggi il campo era pesante, quindi diamo qualche giorno in più. Su Paolini, che novità ci sono? Come sta? Sì, Giorgio sta seguendo il percorso, insomma, col fisioterapista e ci auguriamo che, insomma, intorno ai 20 giorni di rivederlo, no? E questa pausa a lui, insomma, giova, perché comunque passa il tempo e è sicura e, insomma, si avvicina e rientro. Un'ultima battuta sul capitano attuale, che è Marco Idrofano, che sta probabilmente tenendo proprio le retini di tutta la squadra. Domenica dopo domenica sembra proprio il leader della squadra. Sì, lui, diciamo che, sì, il capitano dopo Paolini, no? Paolini è il nostro capitano, però Marco lo conosciamo da tanto, almeno io lo conosco da tanto tempo, so quello che mi può dare, ha questa personalità forte e lo sta dimostrando quest'anno in un ruolo che, voglio dire, che ha fatto poco con gli altri, con me l'ha fatto spesso perché io lo vedo lì, perché è molto bravo a leggere i tempi, i movimenti della difesa, i tempi.